Dopo la buonissima stagione del passata, il pieno calcio che torna sul campo, si riparte con il raduno, ritiro, è la prima amichevole che ci sarà domenica, 28 domenica prossima. Sì, i primi giorni si sa che vengono utilizzati soprattutto per conoscerci, di lavoro vero e proprio sul campo, non c'è modo nemmeno di farlo, quindi avremo modo in questi giorni di conoscere gli altri ragazzi nuovi, quelli vecchi, abbiamo avuto modo di ritrovarci, quindi speriamo, dai, ripartiamo la stessa identica voglia se non superiore dell'anno scorso. Siamo uno dei più esperti del gruppo, insieme a Pepe, insieme ai due Amadio, cosa potrai portare ovviamente anche ai più giovani, ricordiamo che sono giovani anche validi e importanti per la categoria. Sì, tra l'altro qualcuno ha già fatto un campionato intero l'anno scorso con noi e ha dimostrato di poterci stare benissimo l'anno scorso, quindi quest'anno per loro dovrebbe essere un campionato importante, appunto magari di consacrazione, come si dice il termine solito. Gli altri vedremo magari in questi giorni, conosceremo anche loro, però è così, è arrivato magari a 30 anni il 12 agosto, magari l'obiettivo non è più solo quello di giocare appunto e fare bene per la squadra, ma magari anche dare una mano ai più giovani. Non c'è la Cesena, ammazza campionato l'anno scorso, però ci sono squadre ovviamente valide che hanno fatto un buon mercato, Matelica, Campobasso, Recanatese, il Pineto dove si colloca? Sì, queste tre che hai nominato sicuramente, infatti sono le tre che si stanno muovendo in maniera importante, credo che il Pineto abbia fatto le sue mosse di tutto rispetto comunque anche nel mercato estivo. e vediamo, vediamo, lo dirà il campionato magari dove tanto alla fine, ecco a maggio di solito ci fanno sempre i conti.